E allora è stato tipo così? Io vi faccio vedere quello che ho visto da casa mia. Finestre aperte state? Spaccacuore! Io ho saltato a caldo. Loro. Quello era il benvenuto. Voglia di cambiare casa. Buonasera e benvenuti ad una nuovissima puntata di Decore Podcast direttamente da Roma. Siamo a Riverside, siamo in zona Città Giardino e questa è una serata davvero speciale. Non perdo tempo perché come prima cosa voglio presentarvi l'ospite che ha accettato di essere intervistato questa sera che è Samuele Berzani. Buonasera. Grazie. Forse ancora non abbiamo realizzato, non siamo ancora così convinti che Samuele abbia realmente accettato di venire a Decore. È un podcast semplice, è un podcast fatto con pochi mezzi ma con tanto sentimento condotto da me che sono Alessandro Pieravanti e da Danilo da Fiumicino. E' quello. È da questo che uno si chiede perché Samuele Berzani è venuto a questo podcast. Ve lo dico. Sì. No, ma con molta semplicità, ce lo stavamo raccontando anche a cena dieci minuti fa, io non è che sono uno che fa molte cose. È abbastanza tradizionale per me rifiutare la maggior parte delle cose che mi propongono perché magari non mi ci ritrovo, non mi piacciono, eccetera. Invece devo dire che quest'estate, mentre ero in vacanza, mi capitava ogni tanto di vedere intanto, non devo nasconderlo, la pagina Instagram di Danilo che mi fa molto ridere e poi ho visto anche una puntata di questo podcast e quindi quando Danilo mi ha scritto via Instagram per invitarmi qua, quanto ci ho messo a dirti di sì? Ma veramente, guarda, possiamo dire veramente tre secondi, ma io stavo col telefono, io ancora adesso sto col telefono così e diciamo mi ha risposto, ma sarà un fake, sarà vero. E io ho, diciamo, il mio agente a cui l'ho detto che è un tuo amico, Umberto, e non ci credeva e mi diceva non è vero che ti ha risposto, e facciamo, Umberto, giuro, ma risposto, non è vero, e io ad uno mandare lo screenshot e comunque pensavamo che era un fake, invece, vabbè, grazie. No, figurati, le cose nascono quando ti sta simpatico qualcuno immediatamente, cioè è un po' come quando qualcuno mi dice Se ti fermi con noi al bar, se mi stai sul c***o non mi fermo, ma se il modo in cui me l'hai chiesto è la tua faccia, mi invita. Lo faccio veramente molto volentieri, anche perché sono figlio unico e ho bisogno tanto di stare in mezzo a degli altri. Quindi il fatto di essere qua a raccontarmi è un po' senza rete, cosa che non faccio spesso, quindi essere senza rete un po' mi preoccupa anche, però è proprio perché ho sentito una corrispondenza anche con le cose che facevate. È vero che sei senza rete, ma ci sono le braccia forti di Danilo da Fimicino a tenerti nel caso in cui andassi giù, quindi non ti preoccupare perché sei tre amici, noi siamo estremamente contenti di averti qua. Solitamente iniziamo tutte le puntate di Decore con la definizione che Wikipedia dà dell'ospite, l'incipit, che molto spesso è sbagliata. E poi lo andiamo a correggere, facciamo un appello e lo facciamo correggere. Vediamo se nel tuo caso l'incipit di Wikipedia di Samuele Bersani è giusto, che dice Rimini, primo ottobre del settante, è un cantautore italiano, è uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del club Tenko, con quattro targhe, nonché due premi Lunezia e due premi della critica Mia Martini. Sì, c'è una gran confusione, però nel senso, intanto è vero, faccio il cantautore, questa è la cosa più vera che abbiano scritto, poi sul numero dei premi, tanto sono sbagliati, sarebbero diversi numeri, non ho vinto due targhe Lunezia, ne ho vinta solo una, ho vinto cinque, tenko invece che quattro. Avrei messo come prima cosa figlio di un musicista, virgola, secondo suo figlio è un Pink Floyd di Cattolica. Io sarei partito così perché, vedete, io faccio il mio lavoro da quest'anno, sono 31, 32 anni, non lo so precisamente quanto, però devo sicuramente la mia partenza, tutta la mia curiosità musicale a mio padre, che è tutt'altro che il classico insegnante di musica flauto dritto, non so se avete presente, flauto dolce, che c'è stata un'epoca in cui l'insegnamento della musica a scuola era praticamente soltanto la... C'era la diamonica, c'era. Sì, c'era anche quella, la sputachiera. Sì, che facevi... No, poi c'era il flauto dolce, peraltro mio padre è un flautista, quindi si offenderebbe tantissimo se mi sentisse definire il flauto dolce così come sto facendo, però c'è stato un periodo in cui in tutta Italia si faceva soltanto la pubblicità del mulino bianco ed era un odio passare di fianco alle scuole medie... La barilla, se è una burla... La barilla, la barilla, l'imn si chiamava quel pezzo lì, da na 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 eccetera eccetera. Quindi quella tipologia di insegnante lì, no, è proprio il contrario. Io sono nato nel 70, mio babbo già insegnava, prima che io nascessi, e ho scoperto quando avevo 3-4 anni, questo musicista che io definisco un Pink Floyd di Cattolica perché coinvolgeva tutti i ragazzi che aveva, le 15 classi, anche 20 a volte, di alunni con degli esperimenti, con delle vere manifestazioni di improvvisazione, se volete, con strumenti non tradizionali, quindi che so, 200 buste per fare la pioggia, le buste quelle che scricchiano, no? Poi, che so, i rumori della natura, quindi tutti i richiami della natura, quindi tu vedevi questi bambini, il bambino che doveva fare il cardellino, c'era una responsabilità incredibile, allora scricchiolava nel momento in cui doveva farlo. E a parte questo, io sono cresciuto proprio di fianco a mio padre, che mi ha sempre portato, quando già facevo, avevo l'età dell'asilo, con lui, quando insegnava a Pesaro, poi ho cominciato la mia scuola, ma anche dopo la scuola, l'ho sempre seguito, nei vari cambi della sua vita. Quindi ho avuto un padre che è stato insegnante di musica per i ragazzi, insegnante di musica per i ragazzi handicappati, con la musicoterapia negli anni 70, un padre che è stato direttore di un coro, un padre che è stato direttore di un'orchestra, e questa cosa mi ha arricchito e mi ha dato sempre delle possibilità, perché in casa sono cresciuto con tantissimi strumenti musicali. Quindi la base della mia partenza deriva da lui e da mia madre, che ha compensato poi con le parole, era l'aspetto cinematografico, l'aspetto dei libri, mia madre era più l'altro versante. A mio padre devo il mio amore per la musica, quindi io scriverei figlio di Raffaele. E Wikipedia non ha questo potere di... Non ha questa sensibilità Wikipedia, è per questo fortunatamente che esistono i podcast proprio per raccontare pure altro, quindi ce l'hai accennato, da che città vieni tu? Io vengo da Cattolica, sono nato a Rimini in ospedale, e poi ho vissuto i miei vent'anni, fino ai miei vent'anni a Cattolica. Ce l'hai un ricordo de core da bambino a Cattolica? Un'immagine tua forte lì che ce l'hai impressa nella mente? Anche belle, però questa sera voglio raccontarne una brutta. Quando avevo 15 anni e la compagnia, quella specie di compagnia che io frequentavo, ancora non si parlava di bullismo, perché non esisteva secondo me il termine bullismo. Non esisteva. Però gli stavo antipatico, perché avevo molte ragazze, e in realtà non ne avevo molte, non ne avevo nemmeno una. Non ci ho mai avuto sto problema, quindi... Te posso dino... No, ma loro mi vedevano come uno sempre attorno alle ragazze, e me l'hanno fatta pagare questi miei amici della compagnia, mettendomi una bicicletta sull'albero e dando fuoco alla bicicletta. Non all'albero, alla bicicletta. No, alla bicicletta. Questa è un film, ma inizia così, una bicicletta che brucia sull'albero. Mi ha bruciato la bicicletta sull'albero. Devo dire però che uno di questi ragazzi è diventato poi uno dei miei migliori amici nella vita. Quindi anche questa roba... Gli hai mai chiesto perché hai fatto quello? Cioè ne avete mai più parlato dopo? Sì, sì, ne abbiamo parlato. Ma perché c'era un'invidia legata al fatto semplicemente che io passassi molto tempo con tante ragazze, mi piaceva, poi la compagnia femminile, ma avrò avuto anche i miei filarini, sicuramente. Adesso vado indietro di tanti anni perché arrivo ai miei 13-14 anni. Però mi ricordo quell'episodio come un episodio che ha cambiato molto le cose. Perché c'è stato un periodo in cui io poi, cattolica e piccola, c'è una via centrale e quindi sei costretto, se esci a passare di lì, e i miei amici stavano davanti a una sala giochi e io non riuscivo più a passare su quella parte di marciapiede e passavo dall'altra parte del marciapiede. Questa cosa all'inizio mi faceva sentire molto solo e poi con l'andare del tempo mi ha fatto sentire molto forte. Quindi da una frattura, da un trauma immenso, devo dire che una spinta altrettanto forte è partita da dentro. La spinta di fare comunque quello che sognavo di fare, a prescindere dalla compagnia, a prescindere da quella cosa che poteva anche farmi del bene ma che invece nel mio caso non mi stava facendo bene. Quindi non ho mai avuto una compagnia tradizionale come la intendono gli 883, per dire. La compagnia degli 883 non l'ho mai avuta. Poi se ti devo dire, Decore, sono i miei nonni, i miei nonni contadini, quindi non necessariamente cattolica, ma quando andavo dai miei nonni stavo benissimo con i loro conigli, le loro galline, le tradizioni proprio, quelle cose che avrei potuto odiare e invece le amavo. Mi piaceva molto andare la domenica a mangiare dei miei nonni, tutte le domeniche sere e andare a mangiare sempre la cosa che sapevi già che avrebbero preparato. Qual era il piatto dei tuoi nonni? A sera a pranzo il lesso, facevano sempre. Sera a sera facevano le piade con le vietole, da noi si chiamano, con le erbe. L'erbe, diciamo, selvati. Faceva molto. Era molto diverso da casa mia andare in campagna dai miei nonni e ci ho passato anche molti anni e mi ricordo adesso un episodio, poi magari faccio sta cosa e mia mamma mi si pentirà di questo mio racconto. C'è un altro episodio traumatico della mia vita, che però secondo me anche questo è più utile raccontare piuttosto che un incontro felice. Quando stavo da bambino a giocare d'estate in questo paese di campagna, dove c'era veramente una viuzza e il silenzio più da fin western, diciamo, d'estate. Un silenzio esagerato, esasperato. L'unica cosa che c'era, che mi faceva compagnia di fianco a casa dei miei nonni, c'erano alimentari, era questo mastello dove mettevano il baccalà. Mi ricordo, c'era questo mastello blu col baccalà e non c'era niente da fare. Quindi la noia è stata fondamentale. Prima di tutto avere una noia da voler superare è stato, come posso dire, essenziale poi per tutta la scrittura delle prime canzoni. Ma ho questo episodio di mia nonna che mi diceva in dialetto dagli scuri della finestra in questo pomeriggio, Sammy, Samuel, basta sac la palla, basta con quella palla, perché io ero lì che c'era una specie di tennis contro il muro con questa palla così. E lei mi diceva, basta, da sopra sempre. Vengo giù, vengo giù, e io, petit pim, patopam, petit pim, patopam. Si vede che questa palla rompeva proprio le palle, mia nonna, è venuta giù con la cintura, mi ricordo, mia nonna era la donna più buona del mondo, cioè come se fosse diventata improvvisamente la strega di Hansel et Gretel. Mia mamma poi non mi ha portato più da mia nonna per due mesi, mi ricordo. Una tragedia, una roba che non ho mai raccontato neanche lo psicologo. Però non gli ha dato fuoco a pallone, perché bruciavano tutto quello che ti piaceva. Ci piace questa vena dark e triste dell'infante? Io sono molto dark io, peraltro. Ci piace moltissimo, a proposito... Vabbè, però poi alla fine avevi smesso di giocare a pallone, cioè dopo questa cosa non c'è più giocato. No, non c'è più giocato, no, no. Ci hai raccontato di tuo padre musicista, del coro, dell'insegnamento, ma da bambino a carnevale ti mascheravano. Sì. Ti ricordi qualche maschera che ti hanno messo a carnevale? Perché facendo interviste ci siamo resi conto che in realtà la maschera che ci veniva messa da piccoli a carnevale in qualche modo poi aveva un senso con quello che avremmo fatto dopo. Dio, io mo' c'ho paura però per quello... No, nel mio caso devo dire no, cioè anch'io ho subito la maschera che sceglievano i miei, poi alla fine quella che si trovava. Poi non è che fossi figlio di due ricchi, quindi non ho mai avuto delle maschere così fantasiose. Si andava, mi ricordo, dalla Dorina. Io lo so che c'aveva la Dorina, il nome del... perché non è che si dice vado dove c'è, dove fanno i... Vai dove compri i vestiti di carnevale. No, tutto sotto il nome, nei piccoli posti. Sì, è vero, perché io avevo Orlandi, era a questo posto, cioè vado a Orlandi a comprare. Che so, per dire, non vai a comprare gli zaini prima della scuola o i diari nella cartoleria, vai da Mario, si dice, la cattolica. Certo. Allora, dalla Dorina si andava a prendere i vestiti di carnevale e mi ricordo, forse sono arrivato all'ultimo, quindi quando si era già esaurito, diciamo, alla scelta. Quindi avevo questo vestito da zorro non zorro, che non ero proprio zorro. Se rivedo le foto, non avevo proprio... Allora, zorro non zorro è un cameriere con la maschera. Ecco, più o meno ero così. Perché quello è l'effetto zorro. Poi associo una volta che abbiamo fatto una roba con la scuola, che c'eravamo vestiti tutti da clown, ma a me mi è venuta una gran febbre, mi ricordo, sti 39-40 di febbre vestito così. E poi mi ricordo un'altra volta che dopo era sotto, qui adolescenza già, era sotto carnevale e io giorni prima, pochi giorni, due giorni prima, ero in bici che stavo andando in discesa e dall'altra parte, io in discesa, dall'altra parte ovviamente in salita, c'era una macchina di un tipo che mi salutava. Io, mentre andavo in discesa con la bici, ho fatto ciao, 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 e lui mi continuava a fare... Ma io non capivo, voleva dirmi, c'è una macchina davanti, sta attento, e io ci sono finito dentro con il mento. Allora mi hanno dato tre punti qua sotto. Allora, quel carnevale lì mi sono vestito da malato. Era già fatto. Tipo da ingessato, con il coso così, solo che c'erano sempre quelli che venivano e ti facevano... E c'avevi punti veri. Però c'hai avuto dei problemi con le biciclette. Sì, però io sempre ho avuto la bicicletta e tuttora a 53 anni ho la bici. Quindi, cioè, ho la mia patente, ho avuto anche la mia macchina, ma oggi a Bologna vado in bici. Però te ne hanno rubate sette, ci hai detto. Sì, sì, perché le rubano a Bologna. Quella è una piccola digressione. Una volta fecero sull'Espresso un servizio sulle città dove rubano prima le biciclette. E nonostante possa sembrare strano, la prima città era Bologna. Vabbè, perché ce ne sono molti. Però almeno a Bologna le rubano e le riusano. Qua noi le tiriamo nel Tevere. Cioè tirano dentro il Tevere e non le usa nessuno. Quindi almeno c'è un riutilizzo. A sfregio vengono buttate così. Senti, hai nominato Bologna. Tu a un certo punto ti sei... Cioè, vivi a Bologna te. Sì. Che rapporto hai con la città? Ti ci trovi bene? È una città a decore per te? Perché tu senti Bologna una cosa tua? Sì, ormai sì. Beh, diciamo che sono a metà. Ormai provo anche un fastidio. Che quando arrivo a Bologna da cattolica la sento casa mia. Ma allo stesso modo in cui quando arrivo a cattolica sento casa mia cattolica. Quindi ormai non è casa mia. Né cattolica né Bologna. Cioè è un incrocio. Cioè è un sentirsi un po'. Insomma, sono a mio agio in tutte e due. Però sono forse diventato apolide. Ecco, questa è la sensazione. Anche perché Bologna è una città accogliente da matti. Che ti fa sentire benissimo. Secondo me se ci arrivi a vent'anni stai da Dio. Se ci arrivi per studiare in quell'epoca lì è meravigliosa. Se ci stai da appunto da quando ne avevi vent'uno ad oggi. Che ne ho cinquantatré. Hai la sensazione che il cerchio un po' si sia chiuso. Anche perché è una città fatta per far star bene tutti. Ma essenzialmente gli universitari. Senti, tu abiti nel centro di Bologna. Non diciamo dove. Anzi, se tu avessi detto la strada probabilmente Danilo l'avrebbe detta. Perché la sua cosa è che se tu a cena racconti qualcosa. Lui poi la dice nel podcast. Quindi hai fatto bene a tenerti un po' abbottonato a cena. Però tu abiti nel centro di Bologna. Però mi ha dato delle indicazioni. Piano piano ci possiamo avvicinare a individuare la casa del Bersani a Bologna. Però se tu domani ti svegli e sei sindaco di Bologna. Non ti puoi dimettere. Qual è la prima cosa che fai? Intanto Bologna è una città in cui quando ci si arriva. Si rimane a bocca aperta per proprio anche il grado di. Non solo di accoglienza. Ma anche la quantità di cose che ci sono da fare. Quindi non mi posso lamentare di una città che è piena di iniziative. Piena di vita. Una città comunque generosa. Una città con le persone ancora gentili. Anche se tutto un po' è cambiato. Anche da noi. Quindi non ho nulla di cui lamentare. L'unica cosa che cambierei è casa. Cioè l'unica cosa che vorrei fare è potendo tornare indietro cercarmi in un'altra casa. In un altro posto. Perché io mi sono trovato una casa che mi è piaciuta molto. In un momento in cui ero molto innamorato. Sono entrato dentro questa casa. Perché volevo per la prima volta fare un passo con la madre che ti dice dai però è arrivato il momento che compri qualcosa. Non l'hai mai comprata casa. Dai fai una roba che ti renda poi un po' più sereno in futuro. E va bene allora compriamo sta casa. Ero sempre stato in affitto. E ne ho cercate tante. Ne ho viste tante. Poi a un certo punto entro dentro sta casa. C'erano due bambini bellissimi. Lei che suonava il violoncello in casa come in Saranno Famosi. Erano dei figuranti. Sembrava pure una situazione con dei figuranti. Non erano meno. Era tutto fatto apposta. Sono entrato dentro e mi è piaciuta molto. Poi quelli dell'agenzia immobiliare un po' impropriamente mi hanno messo un po' d'angoscia. Mi hanno detto entro due giorni però o sì o no. Due giorni va bene. Allora entro due giorni io ho deciso di sì. E ho preso sta casa che mi era stata presentata come una casa molto tranquilla su una via altrettanto tranquilla. In effetti quando io sono arrivato lì era giugno a fare questo sopralluogo e avevano bloccato il traffico. Per cui mi è sembrata particolarmente tranquilla questa via. Del resto l'edificio di fronte era chiuso perché era già giugno inoltrato e avrei scoperto solo in un secondo momento che si sarebbe riempito di futuri geometri. Quindi a un certo punto io faccio il trasloco aiutato tantissimo da mio padre. Devo dire che è venuto su da cattolica poverino già avevo una certa età tre volte in tre giorni per aiutarmi e mi ritrovo in una situazione completamente diversa. Dunque con il traffico proprio di quelli da assedio in città quindi con il claxone eccetera eccetera e soprattutto con tutte le aule di fronte a casa mia. Cioè non avevo ancora le tende e l'approccio... Purtroppo c'è il tavolo che mi impedirà il... Faccio così. Mi impedirà... No ma capirete perché? Mi impedirà il cos... Allora io arrivo lì, vado alla finestra e scopro che ci sono i ragazzi davanti della scuola e loro scoprono che ci sono io. E allora è stato tipo così. Io vi faccio vedere quello che ho visto da casa mia. Finestre aperte state. Spaccacuore! Io ho saltato a casa. Loro. Quello era il benvenuto. Voglia di cambiare casa. Era il comitato d'accoglienza. No, la fortuna è che ogni anno cambiano le aule quindi quelli poi si sono trasferiti. E quindi ogni anno devo rifare? No, no. Me l'hanno fatto all'inizio. Cambiano canzone, fanno giudizio universale. Però c'è stata. Io l'ho incassata molto bene. Adesso c'hai le tende, immagino. Adesso le tende. Hai fatto finta di niente. Spiegagli cos'è questo tasto a Samuele. Questo è il tasto delle domande scomode. Io ho questa domanda da fatte. Me la devo levare perché altrimenti poi non mi concentro. Non mi concentro per tutta la puntata. Ma a te ti hanno mai accollato il decreto Bersani? No, 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 sì, a voglia, a voglia. Ti hanno mai dato l'apatero? A voglia, no, no. Può sembrare una cazzata, ma io... No, no, non è cazzata per niente. Ti immagini che il secondo dopo che ti ho scritto su Instagram ho pensato a sta cosa. Io mi trovo a Mantua dentro un taxi per andare a fare una cosa ed ero con la manager dell'epoca in macchina e il tassista sente la notizia che gli fa pensare che la sua licenza sia inutile. Ok? E lui mi riconosce e da quel momento in poi mi manda a fanculo dentro la... Scusate, scusate. No, 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 puoi... Cioè associa me al politico che peraltro conosciuta, una persona piacevole proprio da incontrare perché si occupa di politica ma conosce la musica benissimo e uno che ama moltissimo la musica italiana quindi è anche molto bello. Quindi secondo il tassista eri stato tu? Sì, sì, ma non è la prima volta. Sei quante volte io devo chiamare un taxi? Non avendo una macchina o vado a piedi in stazione non sono molto lontano o quando ho molta fretta chiamo un taxi e il fatto di chiamarmi Bersani a volte mi ha complicato le cose. Sì, sì. Senti, ti abbiamo chiesto una playlist De Gore. Che cos'è De Gore? De Gore, non l'abbiamo ancora detto questa sera. De Gore sono tutte le cose che ci fanno stare bene. L'idea di questo podcast non è raccontare le cose più belle, più interessanti, più stimolanti ma quelle che un po' ci scaldano, quelle che ci danno senso di casa, quelle che ci riportano un po' coi piedi per terra. E ti abbiamo chiesto una playlist. Il primo brano, che adesso ne ascolteremo insieme, un pezzetto, è Penny Lane, The Beatles. Ah, sì. Sì. Penny Lane era una strada, una strada in cui Lennon e McCartney avevano dei ricordi da bambini. Tu ce l'hai una tua Penny Lane. Sì. Qual è la tua Penny Lane? Via Trieste, 14, a Cattolica. A Cattolica. Sì. Ti racconto un aneddoto piccolino che secondo me è molto simpatico, di me bambino. Forse, secondo me, mi fa capire molto di più di altri recenti per far capire un po' come sono fatto. Allora, mio babbo mi diceva sempre Samu, non fare, che non ti venga in mente di fare la pipì su un albero. Ma perché? E torna l'albero. Ma un po', devo dire, padre meraviglioso, lo amo veramente, lo amo proprio tanto. E la cosa bella che lui tutte le volte che facciamo delle telefonate, finisce le telefonate con ti voglio un sacco di vetro. Che, detto da un padre, c'è chi ha sta fortuna e chi non ha questa fortuna. Però è stato anche un po', per certe cose, un po' castrante, perché tante paure, ti fai male al polso se giochi a tennis, se non andare là. Cioè, un po' di robe mi hanno castrato. Allora, a quell'epoca mi diceva non va bene far la pipì sugli alberi, non la fare sugli alberi, non sta bene. Questa roba del non sta bene me l'ha trasmessa. E un giorno, cosa succede? Io torno a casa, prima elementare, prima dei miei genitori. Mia mamma lavorava nella stessa scuola dove io entrai il primo giorno a scuola. Il primo giorno che io entrai a scuola, lei entrò a lavorare per il primo giorno della sua vita nella stessa scuola. Mio padre lavorava in una scuola media all'epoca. E quel giorno io sono uscito prima di mia mamma e di mio babbo e quindi, cattolica, luogo piccolissimo, anche molto, devo dire, anche molto tranquillo in quegli anni, torno a casa. Ma mi scappa una piscia allucinante e non so come fare perché il bar è chiuso e l'altro bar è chiuso e c'era il bar Tazzadoro sotto casa. Quando mi vedevano mi accoglievano, non potevo andarci. Non ho le chiavi, ma mi scappa troppo. E c'erano solo albi. E a un certo punto, però, senti Danilo, comincia a piovere. Cazzo, comincia a piovere. Io me la faccio addosso perché tanto piove non si vedrà mai. Non si vedrà mai. Questo penso. Così, tanto si mimetizza. Ma io smollo, la faccio e quello smette di piovere. Cioè, o potevi dire ha piovuto solo qui? Ha piovuto solo lì, purtroppo. E quindi mia mamma e voi arrivate e mi hanno dato le chiavi di casa a sei anni e mezzo. Ecco, questo è un ricordo che ho. E ci ascoltiamo un pezzetto del primo brano Decore di Samuele Bersani che è Penny Lane dei Beatles. È una cosa che non diciamo mai, però Andre Bedetta ci hanno insegnato quelli bravi che va fatto. Seguiteci su Spotify. Voi ci seguite su Spotify, si può mettere il segui. Seguiteci su YouTube, ci seguite su YouTube. Invece togliete il segui a Danilo da Fiumicino. Quello sì. Datelo a Decore e toglietelo a me. Toglietelo a Danilo e datelo a Decore perché tanto di follower Danilo ce n'ha tanti. Io voglio... Parto subito con la domanda mia. Entriamo nella musica. Io voglio sapere che fine come ha fatto il maglioncino di Gicco e Spillo. Per me è iconico quel maglioncino. L'hai usato sia nel video che anche sull'album. Sì, non solo. Allora, peraltro ieri pomeriggio proprio avevo pensato tra le cose che mi potevo portare qua poi chissà perché oggi pomeriggio ma lo sono dimenticato di portarvi proprio il maglione di Gicco e Spillo. Quindi c'è ancora. Sarebbe stato bellissimo. Il maglione di Gicco e Spillo per me va oltre la canzone quel momento lì perché è un maglione che mi aveva fatto mia mamma ai ferri e io lo misi tutta l'estate prima di cominciare la mia esperienza nella musica. Cioè, quindi avevo già un po' gettato le basi diciamo mi facevo vedere ero sempre vestito con quel maglione praticamente. Mettiamola così. Che poi lo portavi a pelle sotto. Eh sì, era di cotone. Era di cotone, no, non era di lana. Cosa succede? Io faccio un concerto poi se volete poi ve lo racconterò bene ma comunque alla fine della mia prima esibizione sul palco con Dalla dove io avevo questo maglione ci fu gente che venne a dirmi guarda la canzone è stupenda ma il triplo a chiedermi dove è preso sto maglione? Quindi quindi al primo concerto. Quindi ho deciso che questo maglione potesse diventare per me una specie di sì, vabbè quelli banali dicono coperta di linus diciamo di modo per essere conosciuto più che per la faccia per quello che avevo addosso. maglione fatto da mia mamma quindi anche un maglione molto 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 artigianale però poi questo maglione effettivamente mi ha portato fortuna perché oltre ad averlo usato nel video di Chico e Spillo in tante televisioni eccetera io diventai un po' il ragazzo del maglione un pochettino cioè ero collegato a questa immagine tant'è che mi chiedevano in tanti ma è il maglione di taglia 1 perché aveva dei simboli tipo qua delle cose e quando sono andato con In Fascelli poi nel secondo disco Frick in India a fare il video a Goa io mi sono portato il maglione e il video di Frick comincia proprio con un bambino indiano che attraversa la strada con il maglione di Chico e Spillo a cui chiaro è una cagata un maglione voglio dire ma son tanto legato quindi c'è ancora cioè tu lo tieni a casa assolutamente preservato dalle tarme lo metti ogni tanto per una serata bolognese no non lo metto cioè lo conservi solo no non lo metto lo conservo perché è una cosa così adesso dopo 32 anni mi sentirei un po' anche oggettivamente no comunque comunque eri un precursore come quando ti rimetti i jeans assomigliava molto ai maglioni di Natale quelli che vanno adesso capito tutti colorati tutti tanto c'è il ciclo e il riciclo i corsi e ricorsi anche nei colori nella moda nei maglioni quindi io mi immagino un futuro museo di Samuele Bersani con il maglione io mi tocco tanto quando vedo queste cose perché il giorno che faranno il museo con il maglione io sarò già terra di fagioli si dice in Romagna terra di fagioli che facciano quello che vogliono dopo senti Danilo ho un po' anticipato il tema ma parliamo di musica un momento importante della tua carriera sei tu che suoni il mostro con Lucio Dalla sul palco una cosa che a me ha sempre colpito e che mi ha fatto effetto anche da musicista è che anche quando Danilo mi ha detto Samuele ci ha detto di sì è che io ho una grandissima stima di te perché se prendiamo la tua produzione artistica dall'inizio fino adesso mostravi una maturità di scrittura di poesia fin dalle primissime cose cioè il mostro già è un testo che ha un'energia una rappresentazione una narrativa incredibile allora vorrei che tu ci raccontassi quell'episodio lì e l'avvicinamento a Lucio Dalla che è una storia secondo me che fa parte della storia della musica italiana e quindi vorremmo che tu ce la raccontassi ma anche come sei arrivato a quello perché come arriva un ragazzino che gioca a tennis sul muro della nonna e la nonna gli dice basta a scrivere un testo come il mostro e a coltivare una narrazione o un'immaginazione di quel tipo come ci sei arrivato grazie allora intanto vi ho raccontato di mio padre poi non vi ho raccontato della passione che io ho sempre avuto per il cinema e le due cose si sono unite dentro di me cioè la passione per il racconto e la passione per la musica solo che erano due linguaggi che non riuscivo ancora a trovare un punto di convergenza a un certo punto poi come tutti i ragazzi adolescenti mi trovo a che suonano che suonano mi trovo a far parte di un gruppo e scopro anche che mi piace cantare perché prima non l'avevo scoperto certo da bambino cantavo ad esempio in un mio disco un disco che poi ho pubblicato credo forse il terzo o il quarto non mi ricordo c'è anche un episodio di quando io a due anni e mezzo inventavo le mie canzoni eccetera ma quello era un inventare non aver preso coscienza della forza della canzone invece a un certo punto mi viene normale cominciare a scrivere delle storie e la mia prima canzone non era il mostro la mia prima canzone io la presento a un festival a Gabice Mare che è attaccato a Cattolica festival della conchiglia d'oro di Gabice Mare non ce n'è uno più sfigato secondo me comunque tant'è non c'è più quindi amici di Gabice scusatemi comunque io mi presento lì con una canzone che si chiama Al buio e diceva come sei bella al buio proprio perché non ti vedo dico che sei più bella al buio intanto tirò un sospiro di sollievo ecco quella canzone ovviamente non arrivò nemmeno in finale al festival della conchiglia d'oro ma era dedicata a qualche ragazza non mi ricordo soggettivamente non mi ricordo mi ricordo che ci fu Gino Paoli dopo che disse no sei acerbo aveva ragione comunque a un certo punto io comincio invece a prendere molto seriamente l'idea di scrivere e mi piaceva tantissimo questa melodia che avevo cominciato a comporre faccio la prima frase e scrivo nel giro di poco tempo in mostro e come lo faccio faccio finta di andare a scuola la mattina io facevo il liceo classico a Pesaro di me ma lo facevo però per andare a Pesaro dovevo prendere il treno tutte le mattine quindi i miei poi nel frattempo andavano uno alla scuola l'altro all'altra scuola eccetera cosa succedeva in quelle due settimane che ho scritto il mostro io andavo alla stazione poi dalla stazione tornavo a casa facevo finta di essere stato a scuola suonavo il pianoforte tutto il tempo quando era l'una ritornavo in stazione e dalla stazione tornavo insieme ai miei amici in bicicletta a casa una gran pantomima che non aveva molto senso una fatica fino a quando la vicina di casa quella che la coinquilina quella del piano sotto disse a mio padre basta con sto pianoforte la mattina e lì mi hanno sgamato mi hanno mi hanno rotto in due ma io la canzone l'avevo già scritta i miei ascoltano sta canzone e si commuovono però dico sono i miei non vale sta cosa qua però io d'estate lavoro in un albergo rovescio i miei brodi caldi addosso a delle olandesi ma nel frattempo però avevo preso qualche soldino vado in uno studio produciamo la canzone quindi ci mettiamo sopra un impianto gran gran flicorno gran robie che non servivano niente diciamo mia mamma dice guarda c'è Dalla che fa dei provini a Bologna io su sta canzone ci credevo tantissimo a questa canzone proprio ero convinto che fosse una bella canzone vado ai provini a Bologna Dalla faceva i provini di Angela Baraldi e cercava un gruppo che la accompagnasse ma io non ero all'altezza non ero un virtuoso dello strumento quindi non sarei mai dovuto andare lì per Angela Baraldi era solo per poter far ascoltare questa canzone a Dalla Dalla non l'ascolta però quel giorno lì è strano tra tutti i ragazzi che c'erano mi trovai alla fine ad essere accompagnato in stazione da Dalla che si era fatta accompagnare da un altro su una 127 rossa quindi io arrivo alla stazione di Bologna la sera con Dalla che mi accompagna grazie a questo ragazzo sulla 127 rossa mi dà un numero di telefono Dalla io chiamo i miei genitori dalla stazione di Bologna e dico ai miei un po' come farebbero adesso i ragazzini ho svoltato ho cambiato la mia vita però la pelle d'oca è così poi mi dà questo numero di telefono e io comincio a chiamare questo numero di telefono e mi rispondeva sempre una persona che mi diceva no Dalla non c'è no Dalla non c'è no Dalla non c'è ora quella persona è stata 29 anni segretaria di Dalla e da 5 anni è la mia manager che è qua poi è Paola e quindi quindi è lei che ti diceva no era lei che mi diceva no poi cos'è successo a un certo punto quindi perdo qualunque tipo di fiducia nella possibilità di questo nuovo incontro se non c'è mia mamma mi dice guarda che c'è Dalla che fa un concerto nelle Marche io mi presento vado giù a San Benedetto del Tronto prendo la mia pandina e con uno sai all'epoca c'erano i radioloni vado con un radiolone e con una cassetta lui mi dice lasciami la cassetta no l'ascoltiamo adesso io lì sono stato veramente coraggioso ecco se devo dire una delle volte più coraggiose della mia vita è stata quella perché ho detto no non ti lascio la cassetta l'ascoltiamo insieme una volta ci siamo messi a ascoltare la canzone prima del concerto e lui ho visto proprio che si commuoveva con questa canzone e mi disse anche una cosa un po' da genitore tipo ma non l'hai scritta tu vero dove l'hai copiata no scritta io allora io firmo un contratto no perché tante volte questa storia viene ridotta a una cosa un po' troppo favolistica della serie io vado lì faccio ascoltare una canzone e la sera stessa già canto nello spettacolo di Dalla non è così chi l'ha sintetizzata così è per far prima in realtà io firmo un contratto editoriale con Dalla e Dalla mi dice cosa fai quest'estate invece di stare qua non fare un cazzo vieni con noi che abbiamo la tournée tu puoi andare a vendere le magliette dello sponsor meglio di niente meglio di niente ho pensato anch'io lo sponsor era le caramelle charms non ci sono più si può dire allora io un giorno dopo tipo due date che ero già lì a vendere le magliette dietro questo gazebo vendevo davo le magliette agli ospiti che a un certo punto sento che mentre ero lì lui stava parlando di me perché ha cominciato a dire ho conosci guardate ve lo devo presentare c'è un ragazzo che mi ha portato una canzone mi è veramente piaciuta adesso vediamo se è in grado di avere il coraggio di farvela ascoltare ma io ero ancora lì quindi attraverso questo palazzetto dello sport nelle marche arrivo dietro supero le transenne e sai proprio veramente un momento di magia un po' cinematografica salgo lui mi fa un bel sorriso io arrivo a sto pianoforte e ho da affrontare 5 minuti 50 da solo perché quella canzone è lunghissima ed è tutta solo pianoforte voce avevamo tolto tutti quegli arrangiamenti che avevamo detto il triflicorno non fregava un cazzo nessuno faccio questa canzone a cui Dalla però aveva già tolto una strofa cioè una cosa che mi disse è stata guarda questa canzone è meravigliosa però c'è una strofa di troppo levala non serve a niente e io non è che sono stato lì a temporeggiare ma non tanto perché fosse Dalla perché mi ha proprio convinto nel modo in cui mi ha detto togliela cioè mi ha fatto proprio capire il senso dell'inutilità di quella strofa in più non ci ho messo un attimo l'ho levata si chiudeva diversamente quindi da come l'avevo sempre immaginata non c'era un cerchio chiuso c'era un cerchio che ad un certo punto si arrestava io la faccio durante questa serata tre applausi quattro applausi una cosa incredibile Dalla rimane dietro a farmi da corista cioè capite cioè Lucio Dalla si mette dietro a dire ogni tanto il mostro ha paura cioè proprio nell'umiltà più totale è un successo che davvero mi fa credere di avere un po' svoltato tant'è che esce un articolo sul mattino qualche giorno dopo di Val Calebre che parla bene di me Dalla capisce questa cosa e quindi io che mi do per scontato di poter partecipare anche ai concerti successivi invece nei concerti successivi nei due concerti successivi non vengo proprio più chiamato da Lucio torno a vendere le mie magliette dal terzo lui mi richiamò e io feci 92 concerti avevo 21 anni quindi è stata un'esperienza ma come posso dire non lo so c'ho la più grande intossicazione di felicità della mia vita mettiamola così e poi questo è poi dopo ci sono tanti tanti dischi che ho fatto l'ho avuto come discografico come produttore come editore come sponda come amico al telefono anche come a volte non come amico anche proprio come nemico l'ho avuto nella vita però era talmente tanto forte il legame che ho sopportato anche quello ma immagino anche quante ne abbia sopportate lui ad avere a che fare con un ragazzino di 21 anni ho letto un'intervista in cui dici che vi telefonavate di notte ma Lucio era notturno Lucio dormiva quattro ore per cui quindi c'erano queste telefonate sì cioè le telefonate erano solo nelle fasi creative diciamo non è che nella vita così non sai cosa fare chiamo Lucio le due di notte questo non mi sarei mai permesso però nel periodo creativo nel periodo in cui io anche stavo nel suo studio a fare i miei dischi eccetera avevo e dovevo comunque consegnare dovevo consegnare sia io che lui perché lui era il mio discografico noi consegnavamo alla Sony cioè la casa discografica di Dalla era una sottocasa discografica che dipendeva dalla grande casa discografica quindi anche Dalla stesso doveva aveva delle date di scadenza ma nel mio caso mi ha protetto tanto io devo dire la verità mi ha protetto moltissimo nei tempi che io ho avuto ho sempre avuto dei tempi molto lunghi non ho mai avuto dei tempi pronto come si dice quelli che fanno il disco proprio pronto uso sì però non ce l'ho mai fatto in sette anni sono successe tante cose perché te nel 91 sei sul palco e suoni il mostro sì e nel 96 c'è Canzone eh ci parli un attimo di Canzone ah come no Canzone è un pezzo bellissimo interpretato da Lucio Dalla beh Canzone è stato allora prima di dirti di Canzone ti dovrei dire quel poco che ho imparato da Lucio un pochettino cioè a guardare un po' attorno alle cose che già avevo non a quelle che immaginavo e anche a come ho sempre detto diciamo da quando l'ho detto poi l'ho ripetuto anche troppo questa idea di capitalizzare il dolore me l'ha trasferita lui cioè quella di non buttare via niente quella di trasformare in prezioso qualcosa che altrimenti andrebbe sprecato ma non lo potevo imparare perché ancora non avevo avuto non lo potevo sapere perché ancora avevo avuto veramente poche esperienze profonde di vita l'amore vero ancora non l'avevo mai provato e quando una ragazza mi lasciò proprio nel mezzo del momento più idilliaco mettiamola così io ho perso talmente tanto tempo come spesso mi è capitato nella vita poi è stato più lungo il periodo di rinculo che il periodo stesso di di bruttura diciamo cioè il periodo brutto è durato meno del periodo di rinculo che mi è durato tantissimo cioè mi è durato per degli anni ci ho messo a smaltire delle situazioni non so se vi capita anche a voi se sono l'unico però quel momento lì magari in sé per sé non dura tanto poi non sei capace di elaborarlo e te lo porti dietro per degli anni allora Dalla in quel periodo mi vide così e mi disse guarda stai sbagliando solo una cosa che non stai mettendo su carta quello che ti sta succedendo fallo lui aveva questa canzone che non riusciva stranamente perché io ho visto fare delle cose incredibili andare in chiesa l'ho già raccontata sta cosa andare in chiesa con un foglio tornare con il testo di tu non mi basti mai dopo un'ora o scrivere altre cose per altri artisti proprio con la mano sinistra lui che era destro e mi disse vai a casa mi diede questa canzone che lui non riusciva a trasformare a mettere in parole e io non ho fatto altro che prendere la lettera a quello che mi aveva appena detto racconta quello che ti è successo e allora avevo questa casa avevo una casa dove io e questa ragazza avevamo riempito il cielo di stelline fluorescenti erano quegli anni lì erano metà degli anni 90 quindi il massimo della tecnologia era la stellina fluorescente diciamo quella che si si illuminava con la lampadina ma che meraviglia averlo adesso allora ci mettevamo lì col manico di scopa a dare i colpi sul soffitto per attaccare le stelline avevamo attaccate 1500 mi ricordo una roba un'impresa tipo 1000 io 500 lei una roba il presepe avete fatto però quando comunque andavamo a letto fra quello poi magari ci si faceva una c***a ne vedevi 4000 ecco e allora e allora io cominciai proprio a raccontare così il cielo c'è spegni la luce che il cielo c'è quella era una cosa che raccontavo ad Alessandra che era la ragazza di cui io parlavo in quella canzone perché le mie canzoni devo dire a parte qualcuna quando parlo di storie o di sentimenti sono sempre state lì a raccontare la mia vita cioè quello che mi è successo o quello che mi è successo attraverso poi delle figure attraverso delle immagini che edulcorano un po' anche la pochezza umana che a volte siamo ecco attraverso attraverso delle frasi siamo un po' meglio della pochezza in certi momenti quindi io ho scritto tante canzoni sempre legate alla mia vita personale quella fu una di queste perché anche Giudizi Universali è legata a quella storia anche non so anche Replay ma ce la dici questa cosa te nell'arco di due anni scrivi due canzoni fondamentali per la musica italiana cioè nel 96 scrivi Canzone per Lucio Dalla e nel 97 scrivi Giudizi Universali eh cioè cavolo nel senso per non dire altre cose nel senso allora ci racconti un po' il legame c'è un legame tra le due canzoni sì sì la stessa ragazza cioè quindi c'è la stessa ragazza quindi dobbiamo ringraziare lei comunque sicuramente io la devo ringraziare ma anche noi cioè vabbè mi fa molto piacere indirettamente io devo ringraziare il fatto che ho provato per la prima volta la gioia proprio della convivenza che non avevo mai provato che poi francamente non mi aveva mai più capitata la gioia della convivenza proprio sentirmi naturale con una persona starci bene non vedere l'ora che lei si svegliasse per vederla sveglia per primo al mondo no? quelle robe lì è stato un periodo molto bello poi è bello cazzo avere 25 26 anni è proprio bello non ti ricapita più ti ricapita una volta puoi fare quello che ti pare però non lo ricapita non ti ricapita più ci ho riprovato ma non ricapita magari hai appena scritto giudizi universali no? hai finito il testo quel brivido di forse ho scritto qualcosa no sai che lei è stato il brivido veramente questa è una roba incredibile allora io poi a questa ragazza voglio molto bene questa ragazza poi nel frattempo e lo dico lei si stuferà se lo sentisse forse mi manda anche un colpo perché anche basta ma lei ha preso un po' di siae adesso lei no dammelo però no no lei no lei no 20 euro però ti giuro le avrei dato le avrei dato un po' di siae per partire di meno onestamente e no perché poi lei non paga definì anche in un'altra canzone che a un certo punto quando dice è spunta a nuovo fiore l'agente immobiliare come lo volevi tu perché aveva lasciato me per un agente immobiliare no? quindi io proprio si è sposata poi è divorziata quindi lì c'è stato anche il momento di godurria della serie le canzoni servono no però in quegli anni lì io ho da scrivere la mia vita quella vita lì l'ho fatto così come poi io dopo ho fatto altro no? cioè sempre ho raccontato le cose che mi sono capitate però quello che ha detto Alessandro cioè tu ti rendi conto subito dopo di aver scritto un capolavoro oppure no 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 io non mi rendo conto di aver scritto un capolavoro mi rendo conto che quando lo dunque io avevo questo testo e dalla aveva ascoltato un'altra musica e questa è molto simpatica come cosa perché tanto in questo ci assomigliamo tutti sfuggiremo sempre cioè scapperemo sempre da quello che ci dirà al posto nostro questa questa è la musica che devi mettere no cazzo no non deve essere questa la musica le parole sono giuste ma se tu mi dici che questa musica che io ho fatto è la migliore che io possa posso dire appoggiare usiamo questa parola banale sulle parole no proprio per sfregio io adesso ne cerco un'altra perché me l'hai detto con troppa semplicità ci hai messo troppo poco a dirmi che questa è la musica migliore per queste parole queste parole sono troppo più forti di questa musica e questo io ho sentito quando è venuto Dalla che io avevo un'altra musica Dalla disse bellissima questa musica è uscito e io all'epoca lavoravo con Beppe Donghia ci siamo guardati e abbiamo detto cambiamo tutto cambiamo cambiamo perché perché è anche normale andare contro il padre andare contro il produttore andare contro quello che ti dice io sono Gesù Cristo e tu non lo sei è normale è normale e Dalla in queste cose aveva anche dei momenti antipatici quindi tu che comunque dipendevi anche economicamente ma comunque dipendevi dalle sue scelte dalle scelte del suo cervello per forza ti veniva una rabbia da cercare una cosa diversa da quella che lui ti aveva chiesto non tanto per andargli contro come al padre quando sei adolescente ma perché sentivi che non corrispondeva infatti facciamo un'altra musica io mi misi di punta a scrivere un'altra musica Beppe mi venne dietro e dopo tre giorni usci Giudizi Universali così come l'abbiamo sempre sentito è vera quella frase che ti disse Dalla della goccia nell'oceano la goccia d'acqua nell'oceano come era? sì vabbè ma quello però però cioè vabbè quello però era un modo devo dire a distanza di anni cosa ti disse? senti ma Dalla alla fine io quando l'ho conosciuto pensate questo è incredibile cioè io arrivo a 21 anni incontro Dalla ma Dalla aveva già scritto caruso cioè aveva già scritto tutto tutto ma persino caruso cioè non è che ha scritto solo cara e Anne Marco ha scritto già caruso e quanti anni aveva Dalla io oggi ne ho 53 ne aveva 47 è incredibile cioè capisci cosa voglio dire quell'uomo lì a 47 cosa voglio dire Dalla aveva anche dei momenti in cui poteva starti antipatico cioè perché non devo dirlo io non ho mai sopportato la beatificazione post mortem di nessuno è una cosa che non sopporto perché le persone vanno ricordate nel bene ma nel bene si comprendono anche i loro difetti si comprende anche i loro difetti l'essere umano è fatto anche del lato diciamo un po' malato no? del lato meno piacevole non c'è soltanto l'essere degli straordinari creativi e Dalla un giorno mi disse non dimenticarti però che io rimarrò un oceano e tu sempre ma avevo 23 anni una goccia del mio oceano lì per lì non l'ho capita tanto come frase cioè ho anche riflettuto un attimo cosa cazzo vuol dire una goccia del mio oceano poi ho capito che effettivamente era un ridimensionamento del mio ego ma va bene va bene avesse trovato un ego riferito forse ci saremmo scontrati però ci sta ci sta essere una goccia dell'oceano ma sì ma va bene ma quante opportunità mi ha dato quanti soldi ha speso perché credeva in me cioè quante persone ha convinto quando non erano ancora convinte prima di avermi ascoltato che pensavano semplicemente che dovessero propormi a qualcuno perché gli aveva costretti è diverso quando invece capiscono che tu hai un valore e che non è soltanto la parola di Dalla ma perché Dalla una volta ci ha indovinato perché Dalla non è che ci ha indovinato sempre questo bisogna dirlo e non è che non è che chiunque abbia venduto un milione di copie poi qualunque cosa dica come posso dire aiutami cioè lo posso dire da solo nel senso no no ma mi sembra molto chiaro il tuo discorso non è che gli esce della verità dalla bocca perché ha venduto un milione di copie una persona cioè dei momenti in cui è anche molto fragile è anche molto triste siamo tutti fallibili a tutti i livelli l'aspetto più triste del successo è che qualcuno se la crede delle volte Dalla e devo dire in questo è stata tra le persone che poi ho conosciuto ne ho conosciute delle altre dopo la sua morte la più umile che io abbia mai incontrato ma in assoluto la più umile quindi questa cosa della goccia del mare era un modo per tenermi come si dice tra giovani cioè per farmi capire non volare troppo alto stai con i piedi per terra aveva ragione aveva ragione quindi io se dovessi avere un ragazzo che produco che gli do una mano che gli do dei soldi che vedo che sta alzando un po' la cresta lo terrei basso e quando poi sei esploso ma no io non sono esploso lontano da Dalla perché il momento più alto l'ho avuto che ancora Lucio era vivo sinceramente e il momento più alto di rapporto l'ho avuto con Lucio quando mi ha detto a un certo punto adesso basta tu devi volare con le tue ali cioè lo ha fatto da solo non ha aspettato che io mi ribellassi come dicevo prima di fronte alla figura del padre quando sei adolescente no ha capito perché è stato il primo che si è ribellato ad un'abitudine lui lavorava sempre con lo stesso autore e poi a un certo punto ha capito che non era più importante lavorare con l'autore anche se l'ho amato tutta la vita ma cominciare a lavorare da solo con la sua fantasia e siccome viviamo in un periodo in cui si parla solo di intelligenza artificiale vi dico che non c'è una cosa più più bella più straordinaria per chiunque per uno che fa i dischi e glieli stampano ma persino per uno che fa delle cose che nessuno gli stampi mai nella vita che è sfidare la propria fantasia e fare delle cose da soli soltanto perché vengono fuori dalla tua testa e non perché hai fatto un copia e incolla vent'anni fa si potevano fare o adesso perché c'è una macchina che ti dà una mano cioè la cosa più bella secondo me è il mistero del non conoscerci e del non sapere che cosa possiamo tirare fuori da noi stessi questa è una cosa stupenda è stupenda perché se io sapessi che sono il mago del blu e sapessi che posso darvi il blu che voi preferite tutta la vita ma mi sarei già rotto i coglioni del mio blu cioè ma che palle invece la cosa bella è che non so nemmeno se sarò più in grado di scrivere una canzone cioè non che ne potrò scrivere una più bella di quelle che ho scritto il contrario forse non sono più capace ma voglio essere io sempre non voglio questa cosa del cioè ma posso dirvelo ve lo dico proprio parliamo di cuore è tiepido questo applauso perché è un po' come io non sono per dirvi applaudito mai l'ho fatto nella mia vita cazzo ma non dobbiamo farci vincere dalla macchina perché se la macchina ci farà alzare il pelo così come l'essere umano veramente sconfitta io non ci credo a questa cosa qua cioè il fatto che la macchina io ho provato a chiedere a chat GPT scrivi un testo alla Bersani porca troia l'ho letto ma se io sono come la macchina pensa che io sia ma mi arrendo smetto subito cioè questa è una cosa meravigliosa non abbiamo bisogno di macchine abbiamo bisogno forse di tempo per immagazzinare delle cose nuove da raccontare diversamente dalle ultime che abbiamo raccontato io ad esempio se ascolto della gente che fa sempre lo stesso disco perdo passione per quelle persone a un certo punto le abbandono cioè io sono proprio per il tradimento continuo tu mi devi tradire tu mi hai abituato al blu io adesso voglio un'altra cosa da te la pretendo perché se mi dai sempre lo stesso blu allora ci sono dei ragazzi giovani che sono anche più carini che ti danno il blu ti dirò alla fine questo Samuele Bersani a Decore Podcast seconda scelta Decore nella playlist di Samuele qual è? c'è questo brano qua visto che siamo in tema no però prima vorrei sentire vai un applauso per Decore Podcast e per Samuele Bersani oggi 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 Alessandro è è fomentatissimo io non l'ho mai visto così forse è la puntata che aspettavo da una vita lo voglio dire alla fine però non ci poteva essere una puntata più bella per quanto mi riguarda quindi quindi rovino rovina questo momento rovino il momento loro chi ci segue lo sa io mi dissocio sempre da tutto quello che dici e che fai soprattutto a livello delle denunce delle cose perché sono sono curiosità tu hai hai partecipato diverse volte al festival di Sanremo due due più una da ospite ah è vero sì sì è preparato Danilo sono preparato però però a me mi interessa molto più che il festival di Sanremo mi interessa il festival bar eh cioè tu tu hai partecipato a diverse edizioni del festival bar sì ma il playback cioè vi obbligavano a cantare in playback oppure potevate scegliere no no era era un dato di fatto c'era solo il playback a quell'epoca solamente quello sì 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 ma avevi anche dietro gli strumenti in playback oppure persone che suonavano per te allora sai che perché per me il festival bar è Sandy Martin che suona la chitarra quella diciamo a spalla allora praticamente io mi ricordo solo una cosa che poi credo di aver raccontato tante volte ai concerti cioè allora io sono andato al festival bar con sto pensando ci sei andato con giudizi universali no no già con chicco e spillo poi ci sei andato però poi non so se sono andato con spacca cuore ma penso di no poi sono andato con giudizi universali però eri inserito che ne so nelle ace of base e poi giudizi universali e come sì come stacco era insomma sì però era però era tutto in playback sì era tutto in playback perché era normale anche che insomma era molto difficile c'erano 29 35 delle volte in una serata sola e poi erano gli anni 90 mettiamola così quindi io trovavo anche abbastanza normale il playback per un disco che magari era appena uscito e non avresti potuto farlo già dal vivo però io mi sono divertito molto al festival bar sicuramente cioè non non l'ho mai vinto quindi non ho niente da dire l'ho solo fatto sei forse più andato vicino a vincere Sanremo e il festival bar ho visto no 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 né Sanremo né il festival bar però mi ricordo cose molto simpatiche del festival bar non tipo Salvetti era un te lo ricordi Salvetti sì sì diciamo il Patron il Patron prima ancora del figlio che erano uguali non si riusciva a capire chi era il figlio e chi era il padre erano non so se vuoi ricordare ma erano identici secondo me erano erano la stessa persona poi in realtà erano c'ha ragione erano tipo clonati però era un periodo però se lui veniva e ti diceva io credo molto in te comunque lascia ma lui perché perché era il Patron del festival bar se lo sarà inventato non so Paola perché lui era Patron l'aveva inventato l'aveva inventato dice Paola sì l'avrà inventato lui era tipo quello quello di Miss Italia invece come si chiamava perché all'epoca c'erano Mirigliani Mirigliani madonna mia madonna io ho fatto anche Miss Italia io ho fatto Miss Italia e Cigarini che era il mio era discografico cos'è che era nella discografia scusa Paola artistico andò dalla Carfagna e disse vuoi fare il video di Giudizio Universale e gli dice no quindi la Carfagna non l'abbiamo avuta tu hai fatto il video tu hai fatto il video con Miss Italia mi ricordo no io sono andato a cantare Giudizio Universale a Miss Italia ancora il video però non l'avevo fatto e allora questo dirigente della casa discografica che Dalla poi conobbe credo due settimane prima due settimane due settimane prima a un pranzo divenne l'amministratore no l'amministratore delegato vi ha detto il direttore artistico più o meno e era diventato il mio capo capo così in due settimane era diventato il mio capo va bene allora andò dalla Carfagna a chiedere spoderatamente se voleva fare il video lei disse di no e allora come facciamo il video con le foto cioè potevi avere un ministro dentro all'ombidio hai capito adesso per dire avrebbe fatto curriculum invece no e invece niente la mia ragazza dell'epoca quella la quale io mi rivolgevo nella canzone cioè parliamo di giudizi giusto giudizi universali sì 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 feci di una foto sua 2500 coppie che era la stessa di canzoni quella della CIA di prima sempre lei tanta roba sempre la gallina dalle uova d'oro ma chi è? diciamo così ma facciala conoscere eh sì eh sì proprio è vero è vero e niente feci il video con la sua fotografia che a un certo punto però prendeva fuoco gli hai fatto di tutto gli ho fatto di tutto e quindi lei non l'ha presa molto bene mi ricordo no 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 però quando uscì canzone mi ricordo questo no perché canzone diceva canzone va per le strade tra la gente e se lei rimane indifferente vuol dire che non è lei diceva la canzone era un modo proprio per dire cioè vai se trovi Alessandra le piace sta roba è lei se non le rimane a mia zia è piaciuta moltissimo mi disse al telefono comunque i canzoni oltre la canzone che era stupenda anche il videoclip era avantissimo il videoclip è ultra perché se lo se lo vedi adesso sembra una roba veramente moderna cose che fanno adesso è vero ma Lucio era molto avanti da questo punto di vista cioè dal punto di vista dell'immagine proprio era la persona migliore con cui confrontarsi sembra addirittura un video pensato con il telefonino esatto cioè prima dell'iPad prima del telefonino c'era questo schermetto che tutti avevano in mano era incredibile è una cosa allora ho chiesto a Samuele Samuele qual è il tuo libro Decore? allora io anni fa venni allora venni stradato alla conoscenza di un autore semplicemente perché presi un treno e incontrai su questo treno Ivano Marescotti avete presente Ivano Marescotti? Ivano Marescotti mi incontra io avevo una gamba ingessata e cosa hai fatto? ma c'hai tempo di leggere un libro? dico sì leggiti Raffaello Baldini all'epoca lui faceva degli spettacoli di Raffaello Baldini che è un poeta dialettale di Rimini anzi precisamente di Sant'Arcangelo quindi il luogo da cui arrivano tanti da Daniele Luttazzi a Fabio De Luigi eccetera tanti anche Tonino Guerra per dire era di Sant'Arcangelo chi è Tonino Guerra? lo sceneggiatore di Fellini eccetera e mi disse devi imparare a conoscere quest'autore che io conoscevo pochissimo e quindi andai a prendere questo libro che per me è essenziale presentarvi quest'autore questo libro perché perché c'è perché ti piace qualcuno perché ti piace qualcuno quando vai al cinema perché ti piace qualcuno quando leggi perché corrisponde al tuo modo di sentire perché vorresti averle scritte tu quelle cose vorresti averle girate tu quelle cose se fossi stato un regista un'anima che corrisponde alla tua è difficilissima incontrarla per me è molto molto difficile e quando incontrai l'anima di questo signore di 85 anni che poi morì dopo i 90 anche se io avevo 50 anni meno mi senti molto corrisposto dalle cose che lui che lui scriveva e allora vi leggo una cosa che mi piace da matti ecco perché mi sono innamorato di Raffaello Baldini il quale ha vinto il premio montale della poesia perché se vi dicessi Raffaello Baldini un poeta di Sant'Arcangelo di Romagna chi cazzo ce ne frega è romagnolo sono affari tuoi no patrimonio nazionale perché nel momento in cui un poeta dialettale viene riconosciuto dagli altri come poeta diciamo anche oltre il nazionale ma intanto nazionale dandogli il premio montale della poesia significa che abbiamo raggiunto delle vette perché mi piaceva perché quando scriveva delle poesie non le scriveva da poesie le scriveva come io avrei voluto scrivere dei testi di canzoni quindi lo trovavo proprio moderno esattamente come quando leggevo De Andrè allora questo si chiama Es Signor cioè io adesso non ve la leggo in dialetto ve la leggo direttamente in italiano cioè essere signore essere ricco cioè Signor vuol dire essere il signore cioè essere ricco essere ricco ma ricco davvero mangiare bere andare a caccia donne amici ruffiani che ti danno sempre ragione viaggiare lavarsi tutte le mattine con una saponetta nuova non far conto dei soldi uscire andare in piazza senza una lira in tasca volvo scoperta volvo scoperta occhiali neri camice di seta parlare sempre sottovoce non ridere troppo delle volte dire ma sì andare giù con un dito per il calendario e tutti i giorni sono buoni stufarsi cambiare aver voglia non aver voglia e ogni tanto una bella eredità ecco questa è la poesia di Raffaello Baldini ve ne posso leggere quante ne volete allora è chiaro che è chiaro che quando trovi una corrispondenza con qualcuno tutto parte da un comune sentire che puoi avere con l'autore nel mio caso diciamo sia nel caso di questo autore sia nel caso di uno dei film che tu mi hai chiesto di citarti che è Amarcord io ritrovo il suono delle mie parti il suono delle mie parti quello del dialetto non è soltanto un suono e in questo non so se il romano il romanesco può esservi d'aiuto perché tra il romanesco il romano e l'italiano io forse un po' da ignorante trovo sfumature minori cioè riuscite sempre a tradurmi in italiano esattamente quello che voleva dire il romanesco invece il suono della mia lingua è un po' un suono onomatopeico un suono che funziona dalle nostre parti ecco perché quando guardo Amarcord di Fellini io sento proprio che corrisponde il mio sentire perché riconosco qualunque cosa qualunque anche dallaia il suono diciamo dietro al protagonista che arriva mi arriva come familiare hai parlato dei film che poi andiamo a dire ma come è nata la collaborazione con Aldo Giovanni e Giacomo no vabbè lì è stato molto semplice perché in realtà Giacomo mi chiamò e mi disse che avevano voglia di incontrarmi per avere delle canzoni mie e io all'epoca ne avevo già scritte perché stavo forse al terzo quarto disco quindi loro avevano già individuato delle canzoni che avrebbero potuto mettere dentro la colonna sonora in più era da farsi tutto il resto quindi i tappeti sonori e anche le canzoni nuove da mettere nel film cosa che è stata molto spontanea naturale perché il film mi è piaciuto molto ed è venuta fuori quella che poi al titolo del film per dire chiedimi se sono felice semplicemente seguendo la sceneggiatura del loro film seguendo quello che volevano raccontare per il resto quel film lì è molto bello secondo me anche proprio perché è bello il film bella la storia ma perché c'è un rapporto fra le musiche è vero le immagini cioè si fonde tutto poesia ironia io penso prima alla musica che ha le parole normalmente quando scrivo cioè nove canzoni su dieci mie nascono prima pensando ai suoni poi pensando all'arrangiamento poi pensando cioè una confezione come dire le parole ci sono già nella musica poi le dovrò aggiungere però è la musica che fa nascere tutto quindi è stato molto divertente farlo con Peraldo Giovanni Giacomo io provo a fare un riassunto delle cose che ci siamo detti perché mi piace che poi chi vede il podcast estrapola delle cose quindi tu come Libri Decore ci hai portato Baldini ad nota del 1995 io consiglio un brano scritto da te Pacifico che è le storie che non conosci che parla proprio del rapporto con la lettura e io l'ho trovato nel ripercorrerlo e nel rileggerlo estremamente bello e centrato proprio su questo tema e quindi voglio lanciare questa suggestione a chi ci segue andatevelo a ripescare le storie che non conosci e poi siamo entrati nella parte invece del cinema tu hai citato restando in quell'area territoriale che ti appartiene Fellini con Amarcord del 1973 la cosa interessante è che Amarcord nasce proprio il termine Amarcord da un termine dialettale che poi come neologismo diventa invece grazie a Fellini alla merce di tutti adesso significa un qualcosa che ci riporta al passato e che appartiene però nasce in realtà da un termine dialettale di quella zona lì perché ci hai portato Amarcord e Fellini del 1973 e perché ci hai portato Profondo Rosso di Dario Argento come film Decore Profondo Rosso l'ho vissuto come un trauma quando ero bambino grazie ai miei cugini è stato il film in assoluto che io ho visto più volte credo per 15 anni prima di andare via da Cattolica credo che sia stato il film in assoluto che ho visto di più e che conosco di più lo conosco a memoria so anche a memoria la sceneggiatura ed avevo una passione personale per Dario Argento ce l'ho tuttora nel senso che Dario Argento è legato proprio alla mia adolescenza che è un periodo della mia vita molto importante come per tutti al punto che io sono scappato di casa sono venuto qua a Roma da Cattolica in autostop Dario Argento non abitava più in piazza Martiri di Belfiore 2 ma all'epoca c'era la moglie Dario Nicolodi che abitava qua tu davi per scontato che lui abitasse a piazza Martiri lo sapevi totalmente io dunque Cattolica d'estate eri lo stalker di Dario Argento no no è che Cattolica d'estate organizzavo un festival del giallo e del mistero si chiamava Mistfest io sono del 70 il festival è partito nell'81 forse nell'80 quindi durante la mia adolescenza ho lavorato anche per questo festival facevo il ragazzo delle fotocopie oppure quello che andava a prendere gli ospiti in albergo li portava nel teatro dove si svolgevano le proiezioni tra i tanti ospiti che io ho conosciuto c'è stato Dario Nicolodi che per me è stata una figura proprio amorevole essenziale una persona che mi ha dato tantissimo in termini di ascolto quando avevo 14 anni allora quando uno ha 14 anni che ha ancora le idee confuse non sa che cosa vuole fare trovarsi di fronte a un adulto che semplicemente ti ascolta ma sai che è fondamentale poi per la vita dopo cioè trovare una figura adulta quando sei ragazzino che ti ascolti veramente senza un secondo fine semplicemente perché è curiosa di sapere che cosa gli vuoi raccontare o le vuoi raccontare nel caso di Daria per me è stato fondamentale nonostante abbia avuto due genitori fantastici e ce li abbia tutt'oggi Daria è stata una figura che mi ha intrigato molto allora nel momento in cui le dissi io guarda scrivo musica per i film dell'orrore perché mi piaceva questo lei mi disse dammele mandami una cassetta io ci credetti davvero forse lei scherzava perché avevo 14 anni eccetera per me invece dipendeva tutto dal momento in cui mi disse ok nell'attesa che lei mi desse un cenno successivo dipendeva tutto da quella cassetta che io le avevo consegnato e ci credevo davvero nonostante i miei 14 15 anni e a un certo punto Daria però che era tanto gentile non mi aveva risposto e allora io cosa feci a un certo punto con i miei genitori che insistevano tanto per il mio liceo classico che io odiavo con tutto il mio cuore presi e partì in autostop per andare a casa di Daria e arrivai qua a Roma e avevo 15 anni feci l'autostop anche un autostop un po' sbagliato perché non sai mai chi incontri ho incontrato anche uno che sulla carta poteva veramente dilagnarmi la vita invece mi è andata di culo mi è andata veramente bene vabbè però stai vieno a casa di Daria Argento ma Daria Argento era la finzione nella realtà io potevo aver rischiato molto nell'85 a partire da Rimini perché andai in bici fino a Rimini per non essere intercettato dai miei a Cattolica andai a Rimini poi lasciai la bici al cimitero di Rimini e cominciai a fare un'avventura e che non ma mai consiglierei a uno dell'85 oggi adesso non mi permetterei mai di dare consigli a uno di oggi ma a uno del passato nemmeno arrivai a Roma e andai a casa di Daria Argento pensando ci abitasse lui invece ci fu Daria che mi ospitò tre giorni qua a Roma quindi per me Roma è stata già prima otto nove anni prima di cominciare a fare le mie canzoni era già la città in cui avrei voluto vivere in la città dei sogni eccetera e Daria mi ha dato la possibilità poi di conoscere Daria e quindi sono venuto a vedere le riprese di Fenomena e sono stato che so Daria è venuto a Bologna a presentare l'ultimo libro ha voluto me che glielo presentassi alla libreria eccetera le cose sono cambiate però ecco se tu mi dici un film al quale sei legato è Profondo Rosso non tanto per quello che è successo dopo ma perché lo conosco proprio a memoria perché sono le cose che stanno dietro alle scene a noi il tuo accento già ci fa venire fame e la domanda è tu sei sei uno che cucina no 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 cucino veramente cosa vuoi cucinare ce l'hai un piatto tuo anche brutto che fai dai le scaloppine le faccio bene cioè il piatto decore di Samuele Perzani sono le scaloppine scaloppine come le prepari le scaloppine i tortellini i tortellini li compri è certo e poi c'è poco da fare però sa dove andargli a comprare no è il giusto minutaggio a saperli cuocere quindi è il giusto minutaggio è tutto lì no scaloppine con la maionese no scusa con la maionese no 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 non mi bestemmiare aspetta scaloppine con la senape volevo dire no vabbè scusa non ti offendo hai ragione da noi si fanno burro e salvia da te con la senape ma andai presa cioè come so le scaloppine non è che devi insultare l'ospite l'ospite ci viene a trovare porta una ricetta scaloppine a senape ho capito evidentemente a Bologna si mangiano le scaloppine la cattolica parlare con lui di cibo è così guardati qua lascio stare infatti ha basato una carriera su questo ma infatti litiga col canguro allora noi siamo quasi arrivati alla fine dei core podcast c'è qualcuno nel pubblico che vuole fare una domanda a Samuele magari ogni tanto ce lo dimentichiamo e invece però poi diventano timidi ma magari invece ci piacerebbe accogliere qualche domanda se ci fosse qualche curiosità assemblea d'istituto guarda come quando fai l'interrogazione e poi nessuno no assemblea dai prof andiamo a casa eccola eccola c'è una domanda è mia moglie fa sempre c'è io poi dove è tua moglie ecco lì ma sono le domande mie gli dico fa sta domanda gli dico fa sta io gli chiedo le palla poi lui non lo fa quindi la cinta no voglio sapere quale cantante stimi se volessi duettare con qualcuno qual è il duetto più bello e un concetto che andresti a vedere però per tanti italiani allora Vasco mi piace tantissimo poi cambiando proprio andando da un'altra parte arrivando qua proprio a livello locale quasi come se parlassi di me peraltro Nicolo Fabi mi piace tantissimo proprio tanto c'è un artista con cui ancora non hai collaborato hai collaborato con tutti con cui vorresti collaborare anche magari qualcuno di non so estero ma sì ma certo i sogni li abbiamo tutti però ti devo dire una cosa allora adesso sto lavorando con un artista straordinaria allora io ho scritto il testo adesso di una canzone che Ornella Vanoni mi ha chiesto due anni fa le piaceva tantissimo la canzone di un artista brasiliana che si chiama Marisa Monte e le piaceva una canzone che si chiamava Calma ma talmente tanto che ha proprio insistito e io mi sono messo a scrivere il testo di questa canzone cioè un'edizione italiana diciamo del testo perché poi la canzone è talmente breve che si faceva anche molta fatica a trovare delle parole l'ho fatto ecco Ornella sarà che boh io l'ho sempre amata anche quando ero ragazzo ma c'ha 89 anni cioè noi no capito noi che ci svegliamo la mattina diciamo mi sento un po' stanco pieno di dolori un po' così ecco Ornella in questo momento devo dire un bellissimo step da raccontarti ecco questo sì poi anni fa ho scritto una canzone che mi piace molto che si chiama Il tuo ricordo ho provato a darla a Mina ma non l'è piaciuta però Ornella Vanoni per me è proprio è tanta roba poi lo capiremo dopo probabilmente però Ornella Vanoni proprio ha riempito un mezzo secolo proprio di profondità proprio nel nostro lavoro ecco poi il nostro lavoro è molto importante quello che lei ha fatto quindi lei cosa ti devo dire andare a suonare dentro la palla degli U2 cioè una volta che hai visto la palla degli U2 ma secondo te ci può essere uno che ti possa proporre un'altra cosa cioè vista quella roba lì gli altri sono tutti sfigati cioè no cioè il primo che dice voglio dei voglio dei video dietro la mia la mia band è un grande sfigato perché vista quella roba lì non puoi fare una cosa più bella di quella allora noi siamo arrivati praticamente alla fine vogliamo ringraziare Samuele Bersani che è venuto a Decore Podcast che per noi è veramente una cosa incredibile ma sicuro grazie grazie a voi grazie 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 devo dire che non ci credevamo quando lui ha detto ok vengo e non ci crediamo un po' nemmeno ora per la stima e l'amore che proviamo per tutte le cose che ha fatto poi lui non ama diciamo l'apprezzamento parlare di sé ascoltare le sue canzoni ma noi sì e quindi noi lo possiamo dire siamo veramente onorati che Samuele Bersani sia stato a Decore Podcast per noi è una cosa incredibile ringraziamo alle registrazioni di questo podcast Matteo Pieravanti che oltre che registrare il podcast ha composto tutte le basi su cui noi parliamo come questa e voglio ringraziare Marco De Tommasi al mixer l'ultima domanda con cui solitamente concludiamo il podcast è questa nella favola di Peter Pan i pensieri felici servono a staccarsi da terra e raggiungere l'isola che non c'è quindi a abbandonare questa vita terrena che a volte è un po' pesante quindi i pensieri felici ci rendono un po' più leggeri ci portano su qualunque cosa che non sia maleducazione e cafoni cioè qualunque cosa che sia alla portata del ritmo che io sento dentro di me qualunque cosa che superi diciamo la mia com'è che hai detto tu prima l'adrenalina le palpitazioni del tuo cuore qualunque cosa che non mi dia fastidio che già è raro incontrare e ci sono delle cose che invece mi piacciono e quando mi piacciono persone parlo comportamenti atteggiamenti pazienza lentezza ecco lentezza 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 per me è fondamentale cioè le persone che vanno troppo dinamiche veloci così un po' anche no non mi interessano perché non corrispondono al mio modo poi magari sono sbagliato io per carità persone che corrispondono al mio modo di essere cioè persone che mi fanno capire che mi sorridono perché sorridono e non perché dietro quel sorriso sottintendono una cosa opposta non mi piace la maleducazione non mi piace una che mi dice scusa se ti passo davanti ma ho la macchina parcheggiata in seconda fila e siccome io non sono maleducato e subisco molto la maleducazione degli altri qui non come cantante come essere umano prega io cantante sono al 5% della mia vita al 95% sono un essere umano poi quando lavoro sono un cantante ma il 95% della mia vita viene usurpato infastidito da atteggiamenti che mi danno proprio fastidio che non vorrei proprio incontrare tutto qua quando incontro invece delle persone pacifiche che mi chiedono una cosa nel modo più gentile così come io sarei più gentile nei loro confronti se gli dovessi chiedere una cosa e allora tutto mi corrisponde ed è come quando ero bambino altrimenti è il tradimento di quando ero bambino è l'epoca più schifosa che mi sia capitato di vivere questa tutto qua scusate ma non è colpa vostra è nostra colpa scusate tutto qua Samuele Bersani a Decore Podcast grazie a tutti grazie una produzione Dobcast grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti